Cari amiche e cari amici di Barbasofia, spopola in queste ore sul web la polemica o l'amara riflessione sul fatto che la RAI ha deciso di sospendere, in realtà poi di riprogrammare più avanti, la trasmissione di Alberto Angela Noos, termine arcaico che indica il Noos, cioè l'intelletto teorizzato come forza che armonizza e guida la natura da Anasagora, l'intelletto a cui i filosofi greci, gli scienziati, i matematici hanno dedicato tutta la loro vita. La RAI decide di riprogrammare la trasmissione di Alberto Angela, Piero sempre presente nei miei pensieri, perché gli ascolti sono bassi soprattutto rispetto al competitor e il competitor è Temptation Island, la trasmissione voluta fortemente poi in Italia dalla vera e propria metrape in sé, direi, delle trasmissioni televisive degli ultimi 25 anni che è Maria De Filippi, che io considero una delle personalità più influenti della cultura italiana. Uso cultura italiana, poi uno può dire ma che tipo di cultura e ha influenzato la cultura italiana come nessun altro. Programmi come Uomini e Donne, come Amici, come C'è posta per te, hanno costruito un orizzonte culturale forte, radicato, ultra popolare. Sono trasmissioni che io non guardo o che ho guardato per curiosità, per cercare di capire e non lo faccio e arrivo sul tema per snobberia, ma semplicemente perché non mi piacciono, mi annoiano, ma quando devo probabilmente staccare anche io guarderò delle altre cose altrettanto frivole e altrettanto leggere, se non addirittura sciocche. Il fatto è che Maria De Filippi è veramente una macchina da guerra nel costruire programmi o comprare format stranieri e riprodurre in Italia, nel costruire programmi popolari fondati proprio sui sentimenti più basici, le emozioni più basiche, amore, odio, tristezza, gioia, gelosia, bellezza, chiacchiericcio, bruttezza, scandalo, una sorta di psicoanalisi collettiva, cioè intorno ad una sedia o in cerchio si parla e si parla di aspettative, di delusioni, di amore, di tradimenti, le cose di cui parlano tendenzialmente le persone comuni o tutte le persone, non solo quelle comuni, cosa vuol dire persone comuni, no? Tutte le persone parlano di queste cose, ne parlano le persone in Germania, in Francia, negli Stati Uniti, ne parlano in India, in Russia, in Cina, va bene, questa trasmissione leggera. Certo poi la nostra società dell'intrattenimento totale, la società delle tv private che da oltre 30 anni hanno invaso le nostre ore quotidiane, le nostre ore di programmi appunto frivoli legati al cibo, al sesso, all'intrattenimento legato al denaro, alla scommessa, ebbè hanno cambiato profondamente gli usi e i costumi degli italiani. E l'errore secondo me sta nel programmare lo stesso giorno, perché è una sfida persa, c'è una sfida persa, cioè immaginare che possa fare una trasmissione, seppur divulgativa, gli stessi numeri, una trasmissione che si fonda sulla tentazione, l'errore, certo non il vero erotismo, comunque l'erotismo quello più raffinato, ma l'erotismo casereccio, quello che ti porta a ridere, vediamo se la coppia resisterà, tutti sono interessi di una cosa del genere, vediamo se tradirà, se non tradirà, e vediamo quel pezzo di corpo, vediamo cosa accade, lui lo sa, non lo sa, vediamo adesso a chi arriva, è un meccanismo che va a parlare la pancia di tutti noi, e tutti noi abbiamo una pancia, la pancia è più grande dell'intelletto, del nose, va bene, è più grande, perché è più impegnativa quella trasmissione, nonostante, ripeto, parliamo di trasmissioni divulgative con anche numeri eccezionali, perché Alberto Angela è un mostro di bravura in questo, però immaginare di tenere testa la trasmissione, appunto, di pancia, così come quella costruita da Maria De Filippi, è impossibile, dunque il primo errore è metterla dello stesso giorno del palissesto, se poi uno lo dice di farlo deve andare chiaramente incontro anche all'amaro destino di vedere l'altro vincere, poi l'altro errore che commettiamo tutti con noi, secondo me, quando commentiamo queste cose, ah che decadenza, ah il mondo dove finirà, ah che tristezza, tutte cose anche legittime da dire, però l'errore che commettiamo è che pensiamo che esista un periodo della storia con gli esseri particolarmente virtuosi, razionali, cioè la gente andava a vedere il circhi dei freaks, andava a ballare in balera, appunto, guardava i giochi, entrava all'arena, sangue, e quando c'era possibile di vedere qualcosa legato all'era e alla sessualità lo faceva, cioè intendiamoci, il problema eventuale è che oggi è a ogni ora del giorno, o realizzi tantissimo profitto, dunque si investe soprattutto in quella direzione, i soldi però che incassano queste trasmissioni o questi film permettono di realizzare anche degli altri film, delle altre trasmissioni di maggior qualità, di maggior impegno, intellettualmente più profonde, ma non possiamo noi fare l'errore di pensare che ci fu un'epoca della virtù, della razionalità, le questioni legate all'intelletto, alla virtù, all'impegno, alle scienze, alla conoscenza, riguardano sempre una minoranza, che poi non significa che questa minoranza sia migliore, io non voglio dire neanche questa cosa qua, perché c'è una persona che può guardare Temptation Island solo per ridere, per staccare, io rido con altre cose, ripeto, e magari ho la presunzione di pensare che i miei comici, i Tognazzi, i Villaggio, gli Alberto Sordi siano superiori, probabilmente commetto un errore, ma quando devo staccare magari guardo delle gag, io guardo tantissimo la Jalapa's Band, va bene, e magari faccio l'ora di pensare che sono ancora più intelligenti, secondo me lo è, tutti noi commettiamo questo errore, però se ci liberiamo da questa lettura dobbiamo dirci una cosa, la ribadita Schopenhauer in tutte le modalità, noi siamo voluntas, la voluntas è il desiderio, desiderio, desideriamo e desideriamo che cosa? Andare verso lo scandalo, verso la sessualità, desideriamo la morte, desideriamo la morte degli altri, magari desideriamo il torbido, desideriamo prevaricare, ma c'è anche poi l'altra parte, la solidarietà, la razionalità, ma non sono in prevalenza in noi, noi non siamo degli alberelli che crescono dritti, sosteneva Kant, ma noi cresciamo tutti storti, serve la volontà, l'imperativo categorico, lo sforzo, la fatica, ed è bello, io continuerò a fare l'elogio della fatica sempre, lo faccio con i miei allievi, leggere, studiare, quando tu entri in quella modalità cresci, diventa bellezza, o la mamma mia, per la bellezza delle opere d'arte, dei musei, dei grandi romanzi, poi devi staccare anche, ma non ti accorgerai neanche più di dover staccare quando ti immergi in quella bellezza, però è come dice Platone, ma è l'ultimo, uno degli ultimi gradi poi dell'amore, quando ami le cose belle non ti accontentrai più di quelle brutte, non ti accontentrai di quelle meno belle, è chiaro che più noi siamo educati alla bellezza, alla raffinatezza, più guardiamo appunto cose in quella direzione, vogliamo cose in quella direzione, le cerchiamo, ma un sistema di mercato, di mercificazione, inonderà appunto le nostre vite di prodotti di bassa qualità e tendenzialmente di prodotti che sono legati a quella sfera, sessualità, morte, gelosie, invidie, potere, ci nutriamo di crime, ci nutriamo di trasmissioni dove c'è di mezzo la sessualità, ci nutriamo di corpi, guardiamo corpi, di cibo, perché riguardano proprio la parte più recondita di noi esseri umani, noi siamo polopulsionale, noi siamo Es, come dice Freud, o noi siamo Conatus, come dice Spinoza, noi siamo Desiderio Voluntas, come dice appunto Schopenhauer, noi siamo anche questa cosa qua, noi siamo soprattutto questa cosa qua, dunque stupiamoci dei risultati che fa Alberto Angela e chiaramente non rammarichiamoci troppo per quanto è accaduto, è normale, è normale che una trasmissione con Tentation Island batta una trasmissione di scienza, di cultura, anche se divulgativa, noi siamo queste cose qua. Poi, attenzione, la riflessione sulla qualità dei prodotti televisivi se è più bassi, beh chiaro, qui apriamo un altro discorso, no, lo ampliamo, perché poiché tutto deve essere venduto, si vende le cose che piacciono di più e che sono anche più facilmente consumabili, perché non c'è più l'idea educativa televisiva. Quando Popper, che era un liberale, immaginava una tv con un patentino per educare, lo hanno chiuso di non essere liberale e il liberale segue anche il mercato, il mercato propone tante cose, alcuni seguono trasmissioni più educative, più intelligenti, eventualmente più virtuose e gli altri seguiranno quello che invece amano di più, più immediato, più anche di pancia e se lasciamo al libero mercato tutto, il libero mercato sa anche capire cosa piace di più alle persone da un puntissimo punto di emozione, di pancia, di sensazioni anche più basse, altrimenti se aveva più una tv, un po' tipo platonica allora, la tv come le leggi deve educarla, io ti propongo tutte le sere un programma educativo e alla fine tu sarai cresciuto in quella direzione. Io penso che la scuola debba fare, dunque un po' la scuola platonica credo, è altro che la scuola del mercato, io non devo dare ai ragazzi quello che più piace a loro, io devo dare ai ragazzi e alle ragazze quello che io penso sia anche un'idea, di bellezza, di giustizia, di competenze, di valori che fanno anche la nostra comunità, non possiamo soltanto dare quello che gli studenti vogliono, tendenzialmente invece il mercato fa quello. Qual è la domanda? Ecco che io ti preparo l'offerta, lavorare sulla domanda e sull'offerta, partire da cos'è l'essere umano, finiamo a Temptation Isle. Se vogliamo invece lavorare, trovando l'offerta, partire da un'idea pedagogica, un po' più dirigista, ebbè allora rimbocchiamoci le mani che la strada è molto 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 lunga.